15 mesi dopo Italia-Spagna di qualificazione mondiale, Little Basket del CT Pozzecco torna a calcare il parquet della Vitrifrigo Arena. Pesaro infatti ospiterà giovedì 22 febbraio alle 20.30 il primo match del 2024 della Nazionale Azzurra, nonché l'ouverture del girone di qualificazione agli europei. A Pesaro andrà in scena Italia-Turchia, match di un girone di qualificazione completato dall'Islanda e dall'Ungheria, prossima trasferta azzurra in calendario già per domenica. Questa mattina la selezione di Pozzecco si è allenata in una sessione a porte aperte alla Vitrifrigo Arena, costruendo da Pesaro i primi passi verso gli europei 2025 che si disputeranno fra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Primi tifosi in tribuna, questa mattina la maggior parte giovanissimi, seduti per vedere da vicino Ivarimelli, Procida, Menion, Tonut, Spissu e gli altri componenti di una selezione priva di rappresentanti della VL. Per la partita di giovedì sera biglietti ancora disponibili sul circuito Viva Ticket in una Pesaro che prova a centrare un altro sold-out dopo Italia-Spagna di novembre 2022. Viva Ticket in una Pesaro